bene sfida da bar con un bicchiere a calice come passare da questa posizione a questa posizione senza mai lasciare il bicchiere da questa posizione a questa posizione puoi far provare i tuoi amici fanno vari tentativi e poi dopo ti fai vedere il metodo è questo per passare da così a così bisogna fare così e il bicchiere passa con i pollici verso il basso allo stesso modo possiamo passare con i pollici verso l'alto a questo punto puoi ancora una volta far provare ai tuoi amici e risulterà davvero difficile perché bisogna sapere l'esatto modo per passare dal bicchiere in questa posizione a questa posizione per passare dai pollici verso il basso ai pollici verso l'alto ora vediamo il tutorial bene vediamo la posizione di partenza pollice indice pollice indice in questo modo a questo punto metto il pollice della mano destra all'interno così incrocio in questo modo e poi ruoto spingendo col pollice facendolo ruotare così intorno e ci troviamo nella posizione verso il basso le facciamo ancora guarda nota la mano destra va a infilarsi così 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 e ci siamo ancora lo vediamo una seconda volta la mano destra va all'interno la mano destra preme sul palmo della mano sinistra e ora il pollice scende della mano destra e troviamo in questa posizione andiamo a vedere l'altra parte eccosa 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 eccete ecc Grazie a tutti.